buongiorno a tutti, Mirko Scaffardi sono qui per mostrarvi un breve view di alcune operazioni del prodotto grande quindi come sapete il prodotto portafoglio di sistemi trading system, contenente 3 trading system sponsorizzato da la rivista traders sono qui per farvi vedere una delle operazioni effettuate ieri 29 agosto sul CFD DAX un'operazione short di breakout, le prime ore del mattino trading system, l'up and down DAX che lavora con time frame 5 minuti quindi l'operazione è entrata short precisamente alle ore 9.25 del 29 agosto avendo breccato tra virgolette appunto il minimo giorno precedente ed è uscita esattamente alle ore 11.10 un'ottima operazione di trend following tra l'altro il trick di breakout perché ha seguito bene lo short del ribasso quindi dell'indice tedesco con un guadagno di 82 punti 3 contratti shortati in quanto io apro prevalentemente con capitale di circa 5.000 euro quindi prevede il trading system all'interno dell'algoritmo è cablato un numero di 3 contratti a operazione e vi faccio vedere anche qui l'operazione eseguita appunto il mio conto live potete vedere il 29 agosto 3 contratti con 242 euro di profit ok ora come vi dicevo in pratica potete poi visualizzare tutta la parte dei componenti del prodotto grande sul sito traders quindi spero di avervi fatto vedere vi faccio vedere il sito un secondo sito traders trattino mag.it ok che in collaborazione con il sottoscritto appunto vi potrà dare tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda appunto il prodotto grande e tutte le sue ecco qua sulla destra trovate appunto il prodotto e cliccandoci sopra tutte le info per poterlo poi attivare vi ringrazio noi vediamo